In questo paper rappresentiamo una scuola di scuola computazione, guidata da un mixto di intelligenza umana e artificiale, su un materiale che sembra exotico per noi, ma è uno dei materiali più comuni nel universo, che è l'idrogeno di densi. Tensi idrogeno costituita 80% di planeti come Jupiter, Saturno, ma può essere molto importante per l'applicazione tecnologica, è prescritto di essere uno dei più, o se più potenti, ma può anche essere il backbone della superconductorale superconductorale. Dal punto di vista della simulazione è molto difficile modellare questo sistema. Ho lavorato su questo per 10 anni, e ho scoperto che ho bisogno di più attrazione in modellare l'interazione dell'elettron, quindi ho bisogno di un trattamento di quantità meccanica, ma allo stesso tempo ho bisogno di una grande storia di sistema, perché ho bisogno di scoprire la fase di transizione e di questo cambiamento materiale. Questo sembrava come un sogno, fino a che abbiamo avuto l'idea di utilizzare una tecnica basata su machine learning. Quindi abbiamo sviluppato un metodo, con il risultato dell'EPFL e Cambridge, che si può imparare la mappa tra strutture e energetica, usando un esempio relativamente piccolo, compito con il metodo standard. Ma questo metodo può essere trasferito a grandi 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 sistemi, così che possiamo avere lunghi e grandi simulazioni, e, più importante, possiamo anche scannare il diagramma di fasi. Se questo studente fosse fatto con il metodo convenzionale, prenderà circa centri di milioni di anni di CPU, quindi questo è chiaramente fuori dalla possibilità senza questo avuto. Quindi ci vediamo che il metodo di machine learning è potuto, ora, a pregare accuratamente le proprietà di un materiale che è stato studiato da circa 100 anni, che è molto importante, e che può aiutare qualità nuova fisica, perché, mentre il network di neurone rediscove tutte le fasi precedenti non-experimentali, è anche riluppato chiaramente la possibilità di una transizione di first order tra l'insulatore e il metallo nella fase di liquida. E questa transizione è sempre predica da simulazioni convenzionali, e, più importante, è l'intervento di tutti tutti i modeli planetari, che necessitano una linea di first order molto clara tra un insulatore e un metallo metallo.